Grazie Mizzio, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti al Re della Terra, tappa genovese. Il mio non è un TED, è solo un saluto introduttivo, sono Giusuede Salvo, mi devo autopresentare, come diceva Mizzio, sono portavoce del Comitato per l'Expo dei Popoli. Il Comitato è ad oggi costituito da 40 organizzazioni no profit che da tre anni lavorano per portare a Milano in occasione di Expo la voce di associazioni, ONG e soprattutto movimenti contadini a tutto il mondo per rispondere alla sfida lanciata da Esposizione Universale, come nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. Per fare ciò noi stiamo organizzando un forum, un forum globale di tre giorni, dal 3 al 5 di giugno del 2015, in fabbrica del vapore a Milano, a cui parteciperanno oltre 150 delegati e rappresentanti delle maggiori reti internazionali ambientaliste di cooperazione allo sviluppo, reti di produttori di cibo, quindi allevatori, pescatori, contadini, ma anche reti dell'economia solidale e della finanza alternativa. Oggi qui a Genova, stasera con tutti voi apriamo la rincorsa verso questo grande appuntamento e con l'incontro di voci ed esperienze che va prestati, che ci apprestiamo ad ascoltare, vogliamo rappresentare una cosa secondo noi semplice ma molto forte, che quando ci presentiamo non siamo solo buone pratiche, spesso veniamo chiamati a metterci in mostra come portatori di buone pratiche, ma non siamo solo questo. Quando siamo insieme, quando siamo uniti nella diversità delle nostre specificità, diventiamo un vero e proprio soggetto politico globale, un intellettuale collettivo, si sarebbe detto all'inizio novecento, un intellettuale collettivo che è capace di proporre soluzioni politiche a problemi, fame e povertà che sono eminentemente di natura politica. E sono in grado di proporre soluzioni che forse non sono buone per tutti, ma di sicuro sono buone per coloro che da sempre vivono i fallimenti del mercato nel garantire giustizia ed eguaglianza. La visione generale che ci unisce, e qui cito il manifesto per l'expo dei popoli, sottoscritto da le 40 organizzazioni e molte altre nel 24 ottobre 2011, la visione generale è quella di una globalizzazione che sia finalmente virtuosa, in grado cioè di valorizzare anziché appiattire le differenti identità, le caratteristiche locali e gli ecosistemi. Una globalizzazione che vorremmo delle opportunità e della partecipazione, invece che dello sfruttamento e dell'esclusione. Sul tema poi specifico del diritto al cibo e della sostenibilità, l'idea forte che ci tiene insieme è che oggi non ci può essere sicurezza alimentare senza sovranità alimentare e non ci può essere protezione della biodiversità e lotta efficace al cambiamento climatico senza una sovranità ambientale. Oggi, secondo ciò che osserviamo il nostro lavoro in prima linea, come NG, come associazioni e come produttori di cibo, uno dei maggiori ostacoli, la libera scelta dei popoli, delle comunità, è proprio una strutturale diseguaglianza nell'accesso e nel controllo delle risorse fondamentali, acqua, terra, sementi, fonti energetiche. I modelli di consumo occidentali, i nostri modelli di consumo, Europa e Stati Uniti, che ormai sono stati assunti anche da questi paesi emergenti, sono modelli insostenibili, sono modelli che chiamano l'accaparramento di queste risorse. E questo accaparramento di risorse, che non è solo terra, ma è più ampio come concetto, è agito da grandi attori del settore privato. Senza il benché minimo coinvolgimento delle comunità locali, quando si negozia l'accesso e il controllo delle risorse naturali, e soprattutto senza la benché minima regolamentazione di queste imprese rispetto agli impatti negativi che le loro azioni hanno nel sud del mondo. L'ultimo living report del WWF quantificava in 6.600 miliardi di dollari i soli danni ambientali che si generano all'attività economica nel sud del mondo, cioè l'11% del PIL mondiale, sono danni ambientali, molto più difficile quantificare quelli economici e sociali, ma questo è un dato importante. Il recupero però di una sovranità piena sulle risorse naturali va di pari passo con un recupero di sovranità piena in termini alimentari. Oggi la concentrazione della proprietà della terra, delle fonti d'acqua, fa il paio con tutta una serie di concentrazioni sulla filiera agroalimentare globale che va dalla terra al piatto di tutti noi. Sette imprese multinazionali contorno al 70% delle sementi. Dieci imprese si spartiscono il mercato e le forniture di pesticidi e fertilizzanti. Quattro traders muovono le principali idratte alimentari, quindi soia, cacao e caffè, su scala globale. Se a ciò si somma la concentrazione dell'industria di trasformazione, Nestlé da sola 7%, Nestlé più Coca-Cola, Unilever, Mars e Kraft fanno 15%, 15% la trasformazione di cibo industriale. E mettete a finire il potere, la grande distribuzione organizzata nelle relazioni con i produttori e gli artigiani dei paesi come il nostro, ma anche la maggior parte dei paesi occidentali, quello che emerge è un vero e proprio quadro di potere nelle mani di pochi. Quindi sono pochi che controllano le risorse fondamentali a svantaggio di tutti. Sovranità e queste concentrazioni di potere hanno un effetto molto reale, hanno un effetto di indebolimento delle società democratiche. Le società democratiche più deboli hanno ovviamente, fanno più fatica a garantire diritti fondamentali, diritto al cibo e all'acqua in primis. Quindi sovranità alimentare e ambientali si fondono per noi in un unico progetto politico di trasformazione, dalla società dei consumi a una società delle relazioni. E questo progetto politico, così come ve lo sto descrivendo molto brevemente per questioni di tempo, è quello che noi abbiamo messo al centro della nostra azione congiunta in occasione della prossima esposizione universale. Una trasformazione della società che è già in corso, non dobbiamo inventarci niente, una trasformazione della società che è già in corso e oggi le voci che abbiamo raccolto vogliono testimoniarlo attraverso appunto la loro passione, attraverso la loro presenza fisica su questo palco, attraverso la loro anima di artisti, di artigiani, di coltivatori e di attivisti che hanno aderito all'iniziativa e che io oggi voglio ringraziare a nome di tutto il Comitato per l'Expo dei Popoli e a nome di tutte le donne e gli uomini che nel mondo lottano ancora oggi e oggi più che mai a rischio anche della propria vita per costruire un altro mondo possibile. E uso questa espressione non a caso, la uso perché martedì prossimo a Tunisi si apre il prossimo forum sociale mondiale, qui siamo a Genoa, io sono figlio del Genoa Social Forum, sono figlio di Porto Alegre e sono contento di avviare qui la rincorsa per l'Expo dei Popoli, quindi ringrazio tutti voi, i relatori e vi auguro buon intrattenimento e arrivederci a Milano. Grazie.